Bianca, che succede? Aspetta! Stupida roccia! Credevo che avresti votato per me! Non sei pronto a guidare il branco, Gray. Credo che tu non sarai mai pronto. E di certo non sei pronto per il matrimonio. Come puoi parlare di matrimonio quando non fai altro che pensare a quegli scherzi infantili? Matrimonio? Perché? Chi si sposa? Nell'ultimo mese non hai fatto altro che ripetere una sorpresa per te! Una bella sorpresa! Ti piacerà da matti! Beh, è la verità. È piaciuta a tutti. Sono stanca di aspettare. Aspettare che cosa? Aspettare un miracolo. Cioè che finalmente cambierai. Ma io ti amo! Abbi cura di te, Gray. Ormai abbiamo chiuso. Ehi! Bianca, aspetta! Giuro che cambierò, te lo prometto! Aspetta! Bianca! 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 Bianca!